Tribunale di Trani, procedura esecutiva numero 160 del 2009, lotto 1. Appartamento composto da un soggiorno, tre camere da letto, un corridoio, due bagni ed una cucina abitabile. L'unità immobiliare sviluppa una superficie di metri quadri 117,22, completamente rifinita ed in ottimo stato di conservazione e dotata di ampi balconi. Sito in via Carrara San Francesco, numeri 19, 21, 17, bisceglie. Prezzo base, 166.090 euro e 64 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 marzo 2015 alle ore 11. Vendita con incanto. 24 marzo 2015 alle ore 11. Luogo della vendita, Tribunale di Trani, procedura esecutiva numero 160 del 2009, lotto 2. Locale posto al piano terra composto da due grandi camere intercomunicanti. L'immobile si compone di 5 vani oltre un lungo corridoio di distribuzione, 3 bagni privi di aerazione diretta e un piccolo vano utilizzato per l'alloggiamento dell'impianto di aerazione. Sito in via Michiello 29 a 31, Molfetta. Prezzo base, 135.621 euro e 75 centesimi. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 17 marzo 2015 alle ore 11. Vendita con incanto. 24 marzo 2015 alle ore 11. Luogo della vendita, Tribunale di Trani. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Da lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Trani, procedura esecutiva numero 424 del 2010, lotto unico. Appartamento al quarto piano interno 7, consistenza 5,5 vani. L'appartamento è costituito da 5,5 vani e precisamente, cucina, salotto pranzo, due camere da letto, un bagno e ripostiglio. L'appartamento si estende su una superficie complessiva di 134,06 metri quadri. Sito in via dei Tigli, 20. Canosa di Puglia. Prezzo base, 42.000 euro. Quota, piena superficiaria. Vendita senza incanto. 24 febbraio 2015 alle ore 9 e 30. Vendita con incanto. 27 febbraio 2015 alle ore 11. Luogo della vendita, Tribunale di Trani. Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita. Dottoressa Nunzia di Palma, telefono, 08, 83, 55, 36, 66. Tribunale di Trani, procedura esecutiva numero 526 del 2010, lotto 2. Locale al piano terra 66 metri quadri. Sito in via Foggia, 65. Molfetta. Prezzo base, 95.970 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 28 febbraio 2015 alle ore 9 e 30. Vendita con incanto. 7 marzo 2015 alle ore 9 e 30. Luogo della vendita, Tribunale di Trani. Per informazioni, chiama il numero verde, infoaste, 800, 630, 663. Da lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Per informazioni, chiama il numero verde, chiama il numero verde. Per informazioni, chiama il numero verde. Grazie a tutti